no! 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 dammela questa mano compa lei levete nanzi levete me la vedo solo levete si batti lontano uno due chiede guarda te che parli sempre vai dite dammela parte ma che cosa fai un culo che se ti impara la buonetta infugata stamattina ehi vedete come mi rimango di porta sopra la seggia guardiamo vedi i scimmio sono state a spaccare le musiche ehi primiti primi no uno due tre ma che cazzo ne sa c'è un po' come su stu parete vai gucci che ho un sacco di femmine da conquistare ehi ma che vedono il video oltre che amacchiste le femmine tutto il numero mio di telefono vuole a chi hanno poi ti faccio vedere ma vedi che sei capace ma allora ehi quanta pesa però aspetta 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 tu ti senti come mi scattolo ma fai un culo a voi le femmine stamattina va oi compa il mio tre sa pronti? uno due tre va tira ma 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 si arriva scappa scappa a punta di sangue c'è un po' di tramaglia a capo ehi compa capo oi c'è mica lo casca la smerza l'ha misa lo casca la smerza il cuscetto lo sengo proprio non ti posso portare proprio a nessuna manna ma ti fa sempre fucuto in merda girate quello cazzo che cazzo gira con cazzo ecco sì sì non la fai con la mamma te no ma questa mi ha visto aiaiaia un sangue ma mi faccio scappa una botta di pop e delle muse ma tu cazzo sei trementiva menta c'è cavolo stamattina ma siccome qua siccome 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 e meggia le muerti di questi gradini della merda ma mi spanto ma ho tutto il telefono sei trapanato ma boba cuglione sì ma ho vengo io sto buon mangio state bene bene ciao un sangue no e questo cazzo del palo quella cazzo l'ho montato di che è sempre stato da ma capo ma ciao compadre ma io che sono formato un sacco di turisti qua che ti viene a cremento beh forse incoraggiamolo tutti con un grande applauso grande va compadre che sei il numero uno uno due tre pure a cristallo muerto stamattina io credo che lo hai fatto con un pedone di merda mi piccano un miscaccio le patane non 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 mi pagano non 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 me ne mentitemi come faccio i tarzanari stò dicendo che la giornata c'è soggetto ha spaccato le muse non 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 oh 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 non riesco Grazie a tutti.